Miau! 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 Bentornati all'appuntamento con Cronache Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo dei nostri amici animali. Come nelle altre puntate parleremo con il dottor Martini e del dottor Albanese della salute dei nostri amici animali, impareremo qualche nuovo comando con l'addestratore Simone Grotti, parleremo come sempre di alimentazione, conosceremo anche in questa puntata un amico a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe, siamo sempre con il dottor Maurizio Martini, oggi parliamo di filariosi, innanzitutto che patologia è? La filariosi è una malattia data da un tipo particolare di verme che si va a localizzare nei grossi vasi sanguini, in particolare i vasi che sono vicini alla parte destra del cuore. Questo accumulo di vermi vicino al cuore determina tutta una serie di problematiche, sia cardiache che polmonari, infatti la filariosi è una filariosi cardiopolmonare, perché i vermi creano come un gomitolo che crea un'ostruzione dei grossi vasi e quindi da qui le problematiche cardiache e polmonari, perché il polmone, il circolo polmonare è molto vicino al cuore destro. I sintomi derivano da questa cosa qui, quindi avremo sintomi sia respiratori, con tosse cronica persistente, sia sintomi cardiaci nelle forme più avanzate, più gravi, quindi fino ad arrivare all'insufficienza cardiaca, problemi di ascite, cioè accumulo di liquidi dentro l'addome dell'animale e addirittura nelle forme più gravi a morte dell'animale per insufficienza cardiaca. I responsabili di queste forme gravi sono i vermi adulti, cioè i vermi che hanno delle dimensioni importanti e ovviamente il numero di vermi presenti è direttamente proporzionale alla gravità dei sintomi. La trasmissione della malattia avviene tramite un tipo particolare di zanzara che trasmette le microfilarie, quindi ovviamente la zanzara non trasmette il vermi adulto, ma trasmette dei piccoli vermini microscopici che poi entrano in circolo e una volta adulti vanno a determinare i sintomi di cui ho parlato. Allora, il trattamento della filerosica cardiopulmonare quando abbiamo la presenza dei vermi adulti è molto complicato perché non è difficile ammazzare i vermi, i vermi si riescono ad ammazzare piuttosto facilmente. Il problema è che se io ho molti vermi adulti e li uccido, questi vermi mi rimangono dentro il circolo e quindi mi creano degli emboli che una volta in circolo possono andare a fermarsi in vari distretti e creare molto più danno del vermi adulto vivo. Quindi l'obiettivo della terapia è cercare di fare morire questi vermi molto lentamente e in un tempo molto dilazionato, in modo che pochi vermi muoiono alla volta e quindi anche se parte un embolo, l'embolo non è importante perché è costituito da pochi elementi e quindi i danni sono limitati. Ovviamente la cosa migliore è non arrivare a questo. Anche in questo caso la prevenzione resta fondamentale? Esatto, la prevenzione si fa innanzitutto impedendo alla zanzara di fungere all'animale. Quindi l'utilizzo degli antiparassitari che facciano una repellenza per le zanzare è fondamentale e vanno usati principalmente d'estate, dalla primavera fino all'autunno inoltrato, ma anche d'inverno se le temperature si mantengono piuttosto umiti. e se troviamo l'animale positivo alla filariosi ma non c'è la presenza di vermi adulti, si possono fare dei trattamenti che servono ad uccidere le microfilarie e una delle profilassi costanti che vanno fatte è proprio questa. Oltre alle vaccinazioni annuali, sarebbe bene fare annualmente anche la profilassi contro la filariosi, oltre al discorso della repellenza per le zanzare. Ci sono anche in questo caso moltissimi tipi di prodotti che servono a questo, che uccidono le microfilarie e quindi impediscono al vermi di diventare adulto. Ci sono sia per via orale, quindi che si possono dare ogni mese, nei mesi estivi, una volta al mese. Esistono dei prodotti invece in puntura e si fa una puntura che dura 8 mesi circa, quindi con un'iniezione si riesce a coprire tutta la stagione. Oppure ci sono anche delle fialette che oltre a fare la repellenza riescono ad uccidere le microfilarie, quindi gli strumenti a disposizione sono numerosi. Qual è la diffusione di questa patologia nel territorio aretino? Allora, fortunatamente ancora nella nostra provincia, in Toscana, la fialetrosi non è molto diffusa, però già in Emilia-Romagna o nelle regioni della Valpadana c'è una grossa diffusione, quindi noi dobbiamo farci trovare pronti con gli animali coperti, perché i chilometri che ci separano dall'Emilia-Romagna sono pochissimi e quindi la probabilità che vengono introdotti animali infetti è molto alta. Ci esistono casi anche da noi, ma non sono così frequenti, però la cosa importante è avere animali trattati in modo che se dovesse arrivare qualche animale infetto la popolazione è coperta e quindi non abbiamo la diffusione della malattia. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a Quattro Zampe. Oggi con il dottor Albanese parleremo di tumori cutani. Anche i cani e i gatti soffrono di tumori cutani? Assolutamente sì, e sono anche molto, ma molto frequenti. Come si riconoscono? Solitamente sono delle formazioni nodulari o a placca che si osservano macroscopiamente sulla cute. Meno frequentemente ci possono essere delle neoplasie cutanee che possono manifestarsi con delle dermatiti e non quindi con la crescita verso l'esterno del tumore. Ecco, ovviamente resta fondamentale una diagnosi precoce anche in caso di tumori cutani. Cosa si può fare? Sì, allora, la prima cosa a fare è una volta che si osserva sulla cute del proprio animale, sulla pelle, questa è una lesione che ha una crescita nodulare, si può indagare mediante un esame citologico. Quindi con una tecnica per nulla invasiva si può inserire un ago nella lesione, raccogliere delle cellule e guardarle al microscopio. Quindi fare un classico esame citologico. Questo consente di ottenere molto spesso una diagnosi precoce, immediata, o di indirizzarsi verso altre metodiche diagnostiche. Come si curano i tumori cutani? Dipende un po' dal tumore cutaneo. I tumori cutanei benigni si rimuovono mediante chirurgia che nella maggior parte dei casi è appunto curativa. I tumori invece maligni, anche qui dipende dal potenziale biologico metastatico del tumore. Abbiamo dei tumori maligni che hanno solamente capacità di invadere in loco, quindi una volta asportati, se ben asportati, non danno recidivi, non danno più altri problemi. E altri tumori invece che sono potenzialmente molto più pericolosi perché possono dare metastasi a distanza. Quindi non basta solo fare diagnosi di tumore e rimuoverlo, ma per molti tumori, prima di asportarli, va fatta quella che viene chiamata la stadiazione, cioè va valutato se la neoplasia è presente solo sulla cute o se già sono presenti delle metastasi in altre parti del corpo, sia altre aree cutanee, ma soprattutto organi interni. Quanto sono frequenti le terapie chemioterapiche per il trattamento di neoplasia cutanee nel cane e nel gatto? Dipende insomma dal tipo di neoplasia, però oggigiorno anche la medicina veterinaria, l'oncologia veterinaria ha fatto passi da gigante, ci sono anche dei centri specializzati solo per la cura delle malattie oncologiche del cane e del gatto. Per molti tipi di neoplasia è possibile effettuare anche delle terapie chemioterapiche o anche di radioterapia. E' alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette e legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osili verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento. siamo sempre in compagnia di Simone Grotti che oggi ci insegnerà dei comandi base da insegnare al nostro cane e da quale partiamo. Partiamo dal più semplice di tutti, il seduto. Ok? Per insegnare il seduto posso farlo in tanti modi. Ok? E io tendenzialmente utilizzo tanto il cibo perché mi stimola il cane, me lo tiene concentrato e mi rende tutto più facile. Ok? Facciando usare, allora facciando usare il cibo al cane, il cane mi sta in piedi, do il comando verbale seduto e muovo la mano sopra di lui. Faccio fare questo movimento qui al collo del cane di modo da sbilanciarlo e il cane si siede. Ok? Ve lo faccio rivedere. Facciamo solo... Seduta. Dale! Come poggia, premiamo il cane. Bravo! Ecco, questo comando ora risulta semplicissimo con lei ma quanto ci vuole in realtà per insegnarlo a un cane? Allora, per poter dire qualsiasi comando che sia appreso al 100% dal cane ci vogliono dalle 600 alle 700 ripetizioni tutte uguali. Sempre con il cibo? Lavorando, sì, lavorando con il cibo. Altre tipologie di lavoro puoi fare prima, altre ancora sono più lunghe, più efficaci, dipende... Di metodologie ce ne sono tante. Ok? Un altro metodo è attraverso il clicker. Il clicker è uno strumento che suona. Ok? E al suono io insegno che corrisponde il cibo positivo. Quindi insegno al cane che come piega suono. Ok? Faccio un modellamento dell'esercizio. Cioè vuol dire che come mi propone una parte sola dell'esercizio io confermo fino ad arrivare all'esercizio completo. Ok? Così vale per il seduto lo stesso vale per il terra. Altro comando che ci insegnare oggi qual è? È il terra il salto addosso. No. Allora lo posso fare partendo dal seduto il terra che è tendenzialmente molto più semplice o lo posso fare partendo dall'impiede. Ora ve lo faccio vedere al seduto. Quindi una volta appreso comunque il seduto? Sì, sì, sì. Ogni comando lo faccio per un X tempo tendenzialmente se almeno deve avere molta sicurezza il cane prima di fare il passaggio al secondo comando perché sennò si crea confusione. Ok? Quindi il seduto me lo sa fare. Vado a trasportare disegnando una L seduta lei non lo sa fare il terra si vede guardate io tocco le spalle terra aiuto il cane seduta seduta dai mandati su l'anteriore dai 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 segui segui brava segui 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 all'è bravissima ce l'abbiamo fatta parliamo in questa puntata di integratori partiamo dal cane quali sono i principali integratori per i cani a cosa servono? Allora buonasera allora l'integratore per cane c'è una vastissima gamma allora tendenzialmente partiamo da un presupposto che l'integratore specifico sarebbe meglio quando abbiamo sia quando abbiamo delle patologie o delle carenze particolari sarebbe meglio che il il veterinario che segue l'animale indichi qual è quello con un'analisi del sangue con uno screening particolare qual è il tipo di integratore qual è la carenza che ha bisogno il cane tendenzialmente oggi abbiamo due fasce di integratori che sono tutto quello che è l'integrazione a livello di oli essenziali e di complessi di aminoacidi per quello che riguarda il pelo sottopelo e eventualmente anche proprio come sistema immunitario poi invece andiamo su un'altra fascia che sono i condoprotettori allora sui condoprotettori tendenzialmente si usano per monossoidi pastori tedeschi retriever o comunque cani sopra i 35 kg perché purtroppo hanno hanno problemi i pastori tedeschi hanno sempre problemi sulla displasia cani di grande taglia comunque con l'avanzare dell'età hanno sempre un po' problemi nelle anche nelle ginocchia nella muscolatura il condoprotettore a prescindere dall'azienda per cui lo che lo fa tendenzialmente ha il principio attivo è quello della cozza verde irlandese e dell'artiglio del diavolo che sono due proteine che vanno a rinforzare nello specifico tutto quello che è l'apparato scheletrico muscolare e quindi gli diamo una mano anche preventivamente io consiglio ai nostri clienti e chi viene anche in giovane età del cane di usarli di cominciare a usarli per avere un rafforzamento per arrivare a diciamo l'età più anziana già abbastanza preparati faccio una precisazione che molte persone mi chiedono un condoprotettore non può curare né displasie né patologie muscoloscheletriche possiamo dargli una mano possiamo alleviare dei dolori però purtroppo la patologia ancora oggi è una patologia genetica e non ci sono cure specifiche che poi non siano degli interventi chirurgici per quello che riguarda gli integratori a livello di aminoacidi quando abbiamo delle patologie o delle carenze appunto molto sulla vitalità io dico sempre ai nostri clienti di vedere la vitalità del cane quando spesso non hanno voglia di molto di giocare non hanno voglia neanche di uscire quasi per fare i suoi bisogni lì spesso abbiamo delle carenze e allora si interviene con degli integratori specifici nel nostro caso usiamo la linea Dottor Clouder che è una dei leader a livello mondiale negli integratori dove abbiamo 4-5 prodotti per intervenire e per alzare le difese del sistema immunitario quindi complessi o vitaminici o complessi di aminoacidi per quello che riguarda la pelle e il pelo del cane appunto invece sempre con dei complessi ma usiamo anche degli oli che sono l'olio di salmone l'olio di fegato di merluzzo e l'ultimissimo arrivato da poco tempo per dire abbiamo visto molti dei grandi benefici l'olio di canapa l'olio di canapa ha a parte l'integrazione di omega 3 e omega 6 ma ha anche delle proteine molto molto specifiche per quello che riguarda proprio il sistema gastrointestinale quindi viene utilizzato molto nelle infiammazioni quando per dire molti clienti mi chiedono perché il cane nel parco giochi si ferma a mangiare l'erba quella è un po' un inizio di un'infiammazione a livello gastrointestinale e l'olio di canapa abbiamo visto abbiamo testato nei nostri allevatori che funziona davvero bene poi abbiamo anche degli integratori specifici per quello che riguarda l'igiene orale e l'igiene delle orecchie che è un pochino più importante sull'igiene orale oltre ad avere sull'anzianità dei problemi che è meglio che il veterinario intervenga con una polizia però anche lì l'importanza dell'integratore è iniziare dal primo anno di età in poi perché sono tutti cicli che appunto l'integratore riesce a mantenere sia a livello sistema immunitario che di denti che gastrointestinale molto alto avendo un sistema immunitario molto forte anche nell'anzianità del cane troveremo dei grandi benefici è alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento Nikos Dog Village è un'osili verde nella campagna retina ideale per l'allevamento e la pensione Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo l'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni Etruria Pet Food vasta gamma di accessori integratori antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a 4 o 2 zampe Etruria Pet Food ad Arezzo e via Carlo Pisacane 65 vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe Simone Grotti Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 Torna come sempre il consueto appuntamento con le adozioni ci troviamo al canile comunale di Arezzo gestito dall'EMPA oggi conosciamo Pandora chi è Pandora? Allora Pandora è una gatta di circa 3 anni che abbiamo trovato quest'estate investita per strada e l'abbiamo recuperata portata di corsa dal veterinario e aveva un grosso trauma cranico il veterinario non dava molte esperienze perché era veramente ridotta male in realtà lei ce l'ha fatta ha superato il trauma cranico l'unico problema è rimasta cieca da un occhio però ecco lei non ha assolutamente problemi in questo sicuramente ha difficoltà a stare con altri gatti perché magari non vede quando sono dietro di lei quindi ha un po' paura anche quando si tratta del mangiare bisogna dargli da mangiare a lei in un posto separato dagli altri però ecco cerchiamo casa lei perché è dolcissima vuole stare solo al chiuso è freddolosa quindi in appartamento starebbe benissimo anche perché qua comunque i gatti sono liberi con le strade vicino c'è sempre un rischio ecco quanti anni ha Pandora tre anni è adottabile da famiglie con bambini sì assolutamente anche perché è tranquilla si fa prendere in braccio si fa carezzare non è per niente aggressiva ecco ora al di là di Pandora sono tantissimi gatti in cerca di adozione qui al canile di Arezzo sì i gatti qui sono tanti sicuramente non tutti sono idonei per un'adozione perché alcuni ovviamente sono selvatici però comunque come lei ce ne sono altri che cercano casa quali sono le caratteristiche di Pandora come la descriveresti? è affettuosa tranquilla ama mangiare dormire sta sempre in colonia nella parte chiusa sotto la lampada al caldo quindi è freddolosa non ama neanche uscire tanto non si allontana fortunatamente dal canile ecco l'appello ovviamente è rivolto a chiunque volesse adottare Pandora e può venire qui al canile sì sì può venire qui al canile lei ovviamente già sterilizzata anche testata e FIV-FELV negativa e quindi non ci sono problemi benvenuti all'appuntamento con il mondo delle esposizioni canine siamo con Nico Mancini per addentrarci all'interno di questo mondo ecco partiamo dalle esposizioni cosa sono? le esposizioni queste sconosciute sì le esposizioni sono un giudizio morfologico del cane e della razza il giudizio si basa sull'avvicinamento di quanto più possibile di quel cane su quello che viene cambiato lo standard di razza lo standard di razza è l'indicazione generale di come deve essere fatto un cane di quella particolare razza il cane vincente è il cane che più si avvicina a questo standard nelle esposizioni esistono varie classi possono partecipare alla fine chiunque anche se è un mondo molto professionalizzato ma tra virgolette basta avere un cane con un pedigree ufficiale quindi con un pedigree enci per poter iscriversi all'esposizione appunto esistono diverse classi nell'esposizione non sono semplicissime sono piuttosto complicati la prima classe è la classe juniores non partecipa per alcun non consegue alcun titolo italiano né di giovane né di campione italiano il juniores va da 6 a 9 mesi ci sono il juniores maschi e il juniores femmine i vincitori della classe è il juniores maschi e il vincitore della classe è il juniores femmine si scontrano e viene decretato il miglior juniores di quella razza di quell'esposizione che poi andrà nel ring d'onore a scontrarsi contro i vincitori di tutte i juniores di tutte le altre razze per decretare il miglior juniores dello show appunto salendo di tassi va in giovani che inizia a essere una classe importante perché si concorre per il conseguimento del giovane campione italiano come funziona il conseguimento del giovane campione italiano va a punteggio la vittoria di classe di una esposizione internazionale speciale viene assegnato 5 punti di una nazionale 3 punti al raggiungimento di quel cane dei 30 punti ottiene il titolo di giovane campione italiano o giovane promessa ENCI salendo ancora si va alle classi che concorrono per il campione italiano di bellezza che sono la classe libera e la classe intermedia i vincitori della classe libera femmine e maschi e della classe intermedia femmine e maschi si vanno a scontrare per sesso quindi il vincitore dell'intermedia femmine e il vincitore della libera femmine si scontrano con quello che viene chiamato lo spareggio il vincitore dello spareggio consegue il CAC che è un titolo ne serve 6 per raggiungere il campionato italiano poi vediamo come sono soddivesi i CAC il vincitore del CAC poi si scontra con il vincitore della classe campioni per conseguire il CACIB che è il certificato di campione internazionale e poi vediamo quanti certificati servono per raggiungere l'obiettivo del campione internazionale finendo poi il discorso dell'esposizione viene anche assegnato il titolo di Junior Bob ovvero il miglior giovane che ha vinto la classe maschi e la classe femmine magari se ci sono più colori anche dei vari colori i vari vincitori si scontrano e viene decretato il Junior Bob ovvero il più bel giovane quindi che va dai 9 a 18 mesi dello show e della razza che poi andrà avrà diritto anche lui andare nel ringo d'onore a scontrarsi contro i vincitori dei giovani di tutti gli altri razzi e poi viene decretato il Bob ovvero il best of breed ovvero il migliore della razza di quell'esposizione dell'esposizione in oggetto allora per il raggiungimento del campionato italiano serve servono sei CACI i sei CACI devono essere presi quattro fra esposizioni nazionali e internazionali e due speciali che sono ci sono poche esposizioni speciali e servono quasi da imbuto per appunto dove tutti gli espositori devono passare per raggiungere appunto come abbiamo detto il campionato italiano il cane che ottiene sei CACI divisi appunto in due speciali e quattro fra internazionali e nazionali viene proclamato campione italiano di bellezza abbiamo accennato prima del campionato internazionale invece non servono sei ma ne servono quattro di non dieci di CACI ma di CACIB che è il riconoscimento appunto internazionale di bellezza ne servono quattro ma in paesi diversi quindi in paesi che possono essere due in Italia faccio un esempio uno in Francia uno in Germania ecco per oggi è tutto nella prossima puntata torneremo a parlare di esposizioni e conosceremo l'Handler quindi chi è e cosa fa anche per oggi è tutto l'appuntamento è la prossima puntata come sempre in compagnia dei nostri amici a quattro zampe a quattro zampe Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS